Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti cari amici da sottoscritto Nicola De Luciola Deluxe Television in questo video vediamo se ne arriverà uno al massimo altri due parliamo di UEFA Champions League maschile 2020 il programma di oggi e di domani delle ottavi di finale 18-19 febbraio 18 febbraio Atletico Madrid-Liverpool la vittoria dell'Atletico Madrid è data a 3,50 il pareggio a 3,20 la vittoria del Liverpool a 2,20 diretta in chiaro sul digitale terrestre sul canale 5 e anche su Sky Sport 1 Dortmund-Paris Saint Germain vittoria del Dortmund a 2,80 pareggio a 3,80 vittoria dei parigini a 2,30 su Sky Sport Football sia oggi che domani diretta gol su Sky e su Sky Sport Collection domani Atalanta-Valenza vittoria dell'Atalanta a 1,75 parigio a 4, vittoria del Valenza a 4,33 diretta su Sky Sport 1 e anche in 4K HDR Tottenham-Lipsia su Sky Sport Football vittoria del Tottenham a 2,37 parigio a 3,50 vittoria dell'Ipsia a 2,90 quindi speriamo in bene per l'Atalanta e alla prossima ciao